Ed eccoci ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video, torniamo sul fantacalcio, sul primo, e inizia la giornata poi a stretto giro rispetto alla precedente, una partita molto importante, classifica alla mano, nell'ultima giornata scontri diretti, tutti terminati in pareggio, quindi la classifica resta quella, le distanze restano quelle. Mi servirebbe molto qualche innesto sul mercato perché ora vedrete la squadra davanti, soprattutto è impresentabile, però va bene. Lui la formazione non l'ha ancora schierata, ma vedete da voi che mancano ancora diverse ore, quindi il tempo c'è, sia per me che per lui, anche per me per cambiare eventualmente idea, e partiamo subito dall'attacco, perché bisogna capire che modulo mettere in base agli attaccanti che ho. Ne ne gioca solamente uno, teoricamente, però io ragazzi vado e confermo questo 3-5-2, per forza di cose, purtroppo la situazione è questa, tra l'altro affrontano anche tutte partite difficilissime poi, cioè questa giornata bruttissima, veramente brutta. Partiamo dalla porta. Allora un po' a carne e zecchia lo eviterei, per quanto l'Inter sia in difficoltà però non lo voglio rischiare. E il duello Falcone-Vicario è tosta. È tosta perché la Serenitana comunque deve far punti. Io andrei di far... Per quanto il Lecce con le pic, negli scontri retti, questo Lecce quest'anno non sta facendo bene, però per ora appunto su Falcone con Vicario in panca. Impolitoria è una partita tosta per entrambe. Molto, molto tosta. Parisi pure è squalificato, ci mancava. Ma io che cazzo metto sta giornata? Ma ragazzi, ma che giornata è questa? Ma che giornata è? Vabbè, andiamo di Rezza. Contro il Bologna. Che giornata è? E poi chi metto? Kim. Ma non posso mettere Kim, c'ho Abram davanti. Ragazzi, io mi rischio. Valeri con l'Inter, che soffrirà tantissimo perché sono le fasce, vabbè. E poi, chi metto? Bilaghi con la Lazio. Ah, Bilaghi c'ha Zaccani da quella parte. No, imprese, mettiamo Kim ragazzi a sto punto. No, no, Bilaghi c'ha Zaccani da quella parte, lasciamo stare, va. E quindi buongiorno, va bene così. Potrei mettere Numanuiti in Cavergamo. Ma che cazzo giornata è questa? Assurdo, questa giornata... E la Madonna. E la Madonna. Tutti lo... Minchia ragazzi, questa giornata è una tragedia, eh. Ma a sto punto tutti spaccati. Cioè, ma che cazzo giornata è? Eh, se mi tocca mettere il 4-4-2. No, davvero, no ragazzi. Non c'ho il coraggio di mettere il 4-4-2. Ma riesco di giocare con il meno. Metti caso che il Stuyano non gioca. No, ragazzi, 4-4-2 per forza. Preferisco prendermi un 5-5 in difesa, metto Bilaghi, piuttosto che prendermi 0 perché non mi gioca un centrocampista. Dovrebbe giocare, Soriano magari entra, dovrebbe giocare teoricamente, però non voglio rischiare. Non voglio rischiare. Metti caso che... No, Rezzi, non rischio. Mamma, che giornata di merda questa. Veramente, mamma mia. Nuitink, primo panchinaro. Buongiorno. Carstor, mamma mia. Squadraccia, Rezzi, squadraccia. Diaz, Ghiasi, Strefezza e Vlasic. Mamma mia, davanti Abram per forza con chi? Nico Gonzalez, non si sa se gioca, se va via. Magari in questi due giorni va pure via. Sise, vabbè, lasciamo stare. Per forza adesso, ma adesso è il scollinto. Vabbè, centrocampo poi chi vuoi mettere? C'è solo Soriano. Giornata veramente impresentabile questa, eh. Sise, primo panchinaro. Nico Gonzalez e butte... No, mettiamo Nico Gonzalez e primo panchinaro. Non facciamo cazzate, dai. No, però questa giornata, Rezzi, è veramente assurda, eh. Mamma mia. Mamma mia. Se faccio 50 punti, tanta roba. Tutte partite difficili. Mi giocano in 10 contati. Cioè, guardate quanti mi giocano. Contati. Sono contati quelli che giocano. Mamma, veramente... Quando arriva il mercato? Summer, mi serve l'asta. Quando cazzo facciamo st'asta? Vabbè. Comunque, dubbi... Che dubbi devo avere, Rezzi? Sono quelli che giocano. Non c'ho dubbi. Che dubbi devo avere? L'unico in porta, Falcone Vicario, ma... Non potendo mettere due portieri, aveva messo due portieri che forse facevo qualche punto in più. Comunque, 4-4-2 con Falcone in porta. Biraghi, Rezza, Valeri e Kim in difesa. Diaz, Ghiasi, Strefezzi e Vlasic a centrocampo davanti a Abram Dessers. Io mi fermo, vi saluto. E ho paura. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi. Ciao.